Pronto? Pronto Mario. Sono morito a Dostaria. Sto a Palermo. Sto quasi per cantare. Magari qualcosa. Come mai sta telefonato? No niente. Sto già telefonato perché... No niente. 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 Che sta telefonato con me strano. Te sento già che la cremina voce. Parlo, te prego, non mi fa morire. Te prego, è stata calma, frate a me. Mamma marita ti amo, veglia a me. Tengo le dosiderie, lo vedete. Prima di stasera portami la cara. Prima di stasera portami la cara. Non dici a te. Che ho niente. Te faccio capire già. Ma figlio prima male. Venga andato. Venga andato. Mamma marita sempre. Io primo figlio mio. E quando facciamo lì, vicino a me a te stai. Attenzione, prego. I passeggeri diretti a Napoli con volo AZ 439 sono pregati di presentarci alla sala di imbarco B22. Ma sono una notte in nulla, sto più vicino a ti. Prego, non sto dicendo, tu ti hai creato bene. Si incontra a chi fa male, tu solo a tua serata. Non vavi là, mamma. Abbraccia, ma non ci agnerà così. Il fatto che l'acqua poteva far tutti i grinti all'ora, tu mi rispire. Ma sei addormuto e non ti scelte di più. Ma come mi fa questo destino? Ma l'era già avvisata, mamma mia. Chi sa quaglione che sto bello lì. Io moro e tu stai ora va a cantà. Mamma, marita sempre, io prima figlia mia. E quando c'è morì vicino a me la testa. Ma si è tornata a Napoli, purtroppo è tardi già. Mentre mi accarezzava, parlava sempre. E Dio non mi ha sentuto. E Dio non mi ha sentuto, ha già pregato fa. E Dio non mi ha sentuto, ha già pregato. E Dio non mi ha sentuto. E Dio non mi ha sentuto, ha già pregato. E Dio non mi ha sentuto, ha già pregato. E Dio non mi ha sentuto, ha già pregato. Edio non mi ha sentuto, ha già pregato.